ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e quest'oggi vi porto un wallbridge un wallbridge molto molto strano ragazzi questo wallbridge per andare in questo wallbridge anzi in questo wallbridge ci entrate normalmente per vedere la stranezza vi serve un paracadute allora questo wallbridge si trova qui in questo punto che state vedendo dove sono io adesso l'unica cosa che vi serve come ho già detto è un paracadute e procediamo al wallbridge niente di più semplice ragazzi dovete salire le scale fino a dove arrivo io insomma seguite il video seguite me insomma e una volta entrati in questo wallbridge dovete aprire il paracadute e andare leggermente verso sinistra adesso vedete io sono entrato apro il paracadute e vado leggermente verso sinistra e poi voilà si spuntano tre punti ragazzi allora in questi punti potete anche camminarci io adesso non l'ho rifatto più volte più volte perché ho fatto un bug strano nuotavo sul ponte però comunque sia potete anche camminarci basterà avere un po di pazienza quando fa questo bug vi metterà sott'acqua ma basterà nuotare un pochino verso il basso e poi risalire verso il ponte e vi troverete a camminare sopra il ponte nel senso sulla strada ma sotto l'acqua niente ragazzi per questo wallbridge strano è tutto un saluto da maxi e al prossimo video wow Ciao